Caro Michele, allora ci sono le università americane che fanno delle cose strane si pongono tante domande, troppe domande secondo me esagerano una di queste domande che si sono poste ha trovato una risposta secondo loro scientifica praticamente nella coppia, quando la coppia è stabile finisce che l'uomo è sempre lì soddisfatto, sereno, tranquillo, rilassato la donna mai, cioè rimane sempre insofferente secondo te è vera questa cosa dell'università? assolutamente sì sì? proprio, sta donna non ce la fa proprio a tranquillizzarsi? no, non ce la fa ma due ciabatte? c'è rotto sulla bocca? no, no sto scherzando no, non ce la farà mai non ce la farà mai quindi lei se non fa delle cose, se non sta agitata, non ce la può fare non ce la può fare sai che ti do ragione sai che ti do ragione siamo d'accordo nonostante la mia compa è brava, però è sempre da fare adesso non c'è per cui possiamo non c'è, possiamo parlarne sai che anche nei giorni quando io vorrei riposare, certi giorni te lo dico lei non ce la fa andiamo in piscina? andiamo di là sta a casa e calmati con amore, con amore me la saluti per favore saluta anche la mia dai si chiama, si chiama Ornella ciao Ornella ecco, grazie mille grazie mille tranquilla eh tranquilla grazie grazie mille